Oggi in Commissione di Vigilanza esplosa in tutta la sua evidenza la litigiosità, le contraddizioni, le contrapposizioni all'interno della ASP di Atri, l'azienda di servizi alle persone, l'azienda che offre servizi ai settori più fragili della nostra società, i bambini, gli anziani. In Commissione di Vigilanza c'è stato uno scontro forte in maniera particolare tra l'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'attuale Direttore Generale, tant'è che l'assessore competente quaresimale ha certificato che c'è un eccesso di litigiosità, di contraddizioni e una serie di contraddizioni che arrivano soprattutto dalle divisioni politiche di questa maggioranza del Governo Marsilio. Oggi si è vista tutta questa divisione tra Forza Italia, Lega, tra pezzi di Lega, anche perché da qualche giorno si è dimesso il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Sono mesi che purtroppo la ASP di Atri ha queste difficoltà e ci auguriamo dopo la Commissione di Vigilanza di oggi sia fatta luce su tanti aspetti, anche perché abbiamo scoperto in sede di Commissione che ci sono anche procedimenti giudiziari in corso. Ci auguriamo che su tutti i punti discussi questa mattina venga fatta chiarezza, anche in sede giudiziaria, e ci auguriamo che la Giunta possa nominare presto un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione o addirittura un Commissario della ASP affinché quella struttura e quell'azienda possa avere una serenità amministrativa ed istituzionale.